Le pari opportunità nel mondo del lavoro sulla carta ci sono a partire dall'articolo 3 della Costituzione, ma nella pratica sappiamo che spesso ci sono delle discriminazioni più o meno velate nei confronti delle colleghe donne, con i pregiudizi sulle loro competenze e capacità in tutti gli ambiti professionali. Le diseguaglianze di genere nel mercato del lavoro certamente nascono sin dal momento dell'incontro tra domande e offerta di lavoro, quindi sin dall'offerta di lavoro ed in questa fase che occorre agire potenziando le risorse, le competenze ed anche le capacità dei servizi pubblici per il lavoro, delle agenzie private per allenare la sensibilità su questi temi. Il pregiudizio che rende poi più pesanti le giornate lavorative delle donne è anche rallenta in certi casi le loro carriere ed è però difficile da riconoscere, forse ancora più difficile da provare. In effetti le diseguaglianze di genere scaturiscono dalla incapacità di rispondere ai bisogni delle donne che lavorano e che allo stesso tempo si prendono cura dei figli piccoli, delle persone anziane, dei familiari conviventi con disabilità. Scaturiscono anche dalla apparente neutralità delle norme, che invece poi nella pratica si rivelano essere gender blind, quindi c'è che rispetto a queste necessità. Occorre quindi rispondere a questi bisogni. Faccio un esempio, flessibilità oraria sì, ma allo stesso tempo si deve accompagnare a sistemi di inquadramento e anche di progressione di carriere che non penalizzino le donne.